Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici e amiche, laudentur Jesus et Maria, bentornati ad una nuova puntata, un nuovo episodio del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. Questa è la ventunesima puntata che questa sera ci conduce ad un nuovo episodio intitolato Deve difendere il maestro scacciato dal Tempio. Un episodio che lo ricordo abbastanza bene, non faccio nessuna anticipazione. Lo andremo a seguire. La volta scorsa penso che potremo ricordare, diciamo così, quel passaggio in cui Gesù ha cercato un pochino di difenderlo, tra virgolette, dinanzi alle evidenze della sua personalità un po' folle e disturbata che manifestava, cercando di invitare a cogliere e vedere quest'uomo come un uomo malato e quindi ricuperabile. Questo per far comprendere che il Signore così tratta anche le persone che sono non buone. Fino a quando siamo in questa terra non ci sta un destino scritto irreversibile. Attenzione, questo sia ben chiaro. Giuda ha fatto la fine che ha fatto perché ha voluto farla. Attenzione, il concetto di destino non è un concetto cristiano, così come comunemente intesa. Cioè il destino come realtà irreversibile, cioè le cose devono andare così e non ci si può fare niente. Questo non è vero questo qui. È evidente che il Signore conosce il corso e l'esito delle cose. Non è possibile che questo non ci sia perché altrimenti non sarebbe Dio. Ed è anche evidente che Lui sa chi farà bene e chi non farà bene. Questo è ovvio. Ma questo non toglie che noi che siamo nel tempo e nel divenire, siamo stati creati di intelletto e quindi di libero arbitrio, siamo gli artefici. Noi. Perché per quanto riguarda quello che Dio ha deciso, quello che Dio ha deciso ha fatto capire molto bene attraverso l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Dio ha deciso che per quanto sta in Lui dovremmo fare tutti quanti una buona fine, oltre che una bella vita. Ovviamente intesa in senso una bella vita, come intendo noi mondani, no? Ci capiamo. Quindi se qualcosa va storto dipende da noi. La predestinazione, la dannazione, credo di averlo già affrontato questo tema durante questo ciclo, di cui parlava l'eretico Giovanni Calvino, uno dei frutti maturi in senso negativo ovviamente del riformo protestante, non esiste. Dio non predestina nessuno alla dannazione. È una bestemmia solo pensarlo a una cosa del genere. Così come attribuire a Dio in qualunque forma e modo la causa di qualsiasi tipo di male. È altrove che vanno ricercati colpevoli. Allora, detto questo, veniamo al tema di oggi. Comincio come di consueto alla lettura, accompagnata poi nel momento in cui appare opportuno da qualche parola di commento. Deve difendere il maestro scacciato dal Tempio. L'interno del Tempio. Gesù è coi suoi molto presso al Tempio, vero e proprio, ossia al luogo santo dove solo entravano i sacerdoti. È un bellissimo cortilone al quale si accede per un atrio e dal quale per un altro ancora più ricco si passa all'alta terrazza su cui è il cubo del santo. Sembrano in preghiera. Anche molti altri israeliti, tutti uomini, sono lì e pregano ognuno per proprio conto. Scende la sera precoce di una plumbea giornata di novembre. Un vocio in cui è una stentoria e inquieta voce di un uomo che bestemmia anche in latino si mesce a stridule acute voci ebraiche. Vi è come il tramestio di una lotta e una acuta voce femminile grida o lasciatelo andare, egli dice che lui lo salverà. Il raccoglimento del santuoso cortile è rotto. Molte teste si voltano verso il punto da cui vengono le luci. E si volge anche giù da Escariota che è anche lui con i discepoli. Alto com'è, vede e dice «Un soldato romano che lotta per entrare, viola, ha già violato il luogo sacro, orrore!» Molti fanno ecco. «Lasciatemi passare, cani di giudei, qui è Gesù, lo so, voglio lui, delle vostre pietre stupide non so che fare. Il bambino muore e lui lo salva. Via, via, ipocrite iene!» Gesù, che quando ha capito che si voleva a lui, si è subito diretto verso l'atrio sotto cui si girava la mischia, giunge ad esso e grida «Pace e rispetto al luogo e all'ora dell'offerta!» «O Gesù, salve! Sono Alessandro! Fate largo, cani!» E Gesù, pacato, «Sì, fate largo, condurrò altrove il pagano, che non sa cosa è per noi questo luogo!» Il cerchio si fende e Gesù raggiunge al soldato che ha la corazza insanguinata. «Se hai ferito, vieni qui non si può stare e lo conduce per l'altro cortile e oltre!» «Non sono ferito io!» «Il mio cavallo! Un bambino!» «Il mio cavallo presso l'Antonia mi ha preso la mano e l'ha travolto!» «Gli zoccoli gli hanno aperto la testa!» «Procolo ha detto nulla da fare!» «Io non ho colpa, ma per me è successo!» «E la madre l'ha disperata!» «Ti avevo visto passare e venire qui!» «Ho detto, Procolo no!» «Ma lui sì!» «Ho detto, donna, vieni!» «Gesù lo sanerà!» «Mi hanno trattenuto quei dementi!» «E forse il bambino sarà morto!» «Dov'è?» chiede Gesù «Sotto quel portico in grembo alla madre!» risponde il milite già visto alla porta dei pesci «Andiamo!» e Gesù va resto più ancora seguito dai suoi e da un codazzo di gente sui gradini che limitano il portico addossata ad una colonna è una donna straziata che piange sul figlioletto morente il bambino è terreo con le labbra violacee semiaperte nel rantolo caratteristico dei colpiti al cervello una benda lo stringe al capo rossa di sangue sulla nuca e sulla fronte ha aperta la testa davanti e dietro si vede il cervello è tenero il capo a cui le dà il cavallo era grosso e ferrato da poco spiega Alessandro Gesù è presso la donna che non parla neppure più agonizzante sul figlio che muore le pone la mano sul capo non piangere donna dice con tutta la suavità di cui è capace ossia infinita abbi fede dammi il tuo bambino la donna lo guarda inebetita la folla imprega i romani e compiange il morente e la madre Alessandro è fra il contrasto dell'ira per le accuse ingiuste la pietà e la speranza Gesù si siede presso la donna poiché vede che ella non sa fare più nessun gesto si china prende fra le sue lunghe mani il piccolo capo ferito si china più ancora si piega sulla cerea faccina alita sulla bocchina lantonante qualche attimo poi ha un sorriso che appena si vede fra le ciocche di capelli piovuti in avanti si raddrizza il bimbo apre gli occhietti e fa un atto per sedersi la madre teme sia l'estremo conato e urla tenendolo sul cuore lascialo andare donna bambino vieni a me dice Gesù sempre seduto a fianco della donna e tenendo le braccia con un sorriso e il bambino si getta sicuro tra quelle braccia e piange col pianto non del dolore ma della paura che torna con il tornare del pensiero non c'è il cavallo non c'è rassicura Gesù tutto è passato ti fa più male qui? no ma ho paura ho paura lo vedi donna non è che era paura ora passa portatemi dell'acqua il sangue e la benda lo impressionano dammi una delle mele che hai Giovanni prendi piccino mangia è buona portano dell'acqua anzi è il soldato Alessandro che la porta nel suo elmo Gesù fa l'atto di sciogliere la benda Alessandro e la madre dicono no risorge ma la testa è aperta Gesù sorride e scioglie la benda uno due tre otto giri leva le pezze insanguinate dalla metà della fronte alla nuca a destra è solo un grumo di sangue ancora molle fra i capellucci del bambino Gesù intinge una benda e lava ma sotto è la ferita dice Alessandro se levi il grumo tornerà a sanguinare Gesù lava 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 il grumo si scioglie ecco i capellucci nettati sono umidi sono umidi ma sotto non vi è ferita la fronte è anche sana solo ha un segnetto rosso dove la cicatrice è nata la gente urla di stupore la donna osa guardare quando vede non si trattiene più crolla tutta addosso a Gesù e lo abbraccia insieme al bambino e piange Gesù sopporta quell'espansione e quella pioggia di lacrime io ti ringrazio Gesù dice Alessandro mi dolevo di aver ucciso quest'innocente hai avuto bontà e fiducia addio Alessandro va al tuo servizio Alessandro sta per andarsene quando arrivano come tanti cicloni degli ufficiali del tempio e dei sacerdoti il sommo sacerdote ti intima a mezzo nostro di uscire dal tempio te e il pagano profanatore subito avete turbato l'offerta dell'incenso costui è penetrato dove è il luogo di Israele non è la prima volta che per causa tua il tempio è a rumore il sommo sacerdote e con lui gli anziani di turno ti ordinano di non porre più piede qui dentro vai e stai con i tuoi pagani chiaro e questo lo sto dicendo io non ho azzardato fare commenti prima perché la scena era drammatica ecco questi bei camafori antichi e sentire adesso la risposta del pagano a volte i pagani fanno lezione a ufficiari del tempio e sacerdoti non siamo dei cani neppure noi egli lo dice Gesù vi è un dio solo creatore dei giudei e dei romani se questa è la sua casa ed io sono creato da lui potrò entrarci io pure e risponde Alessandro punto dallo sprezzo con cui i sacerdoti dicono pagani taci Alessandro io parlo interloquisce Gesù che dopo avere baciato il piccolo lo ha reso alla madre e si è alzato in piedi dice al gruppo che lo scaccia nessuno può abitare ad un fedele ad un vero israelita che nessuno può provare reo di peccato di pregare presso il santo santo con la S maiuscola che è il luogo appunto interno al tempio ma di spiegare nel tempio la legge si rispondono questi camafori te ne sei preso il diritto senza averlo e senza chiederlo chi sei chi ti conosce come usurpi un nome e un posto non tuo e adesso senti la risposta Gesù li guarda con certi occhi poi dice Giuda di Carriot vieni avanti Giuda non pare entusiasta dell'invito aveva cercato di eclissarsi non appena erano venuti i sacerdoti gli ufficiali del tempio che però non hanno veste militare deve essere una carica civile ma deve ubbidire perché Pietro e Giuda d'Alfeo lo spingono avanti Giuda rispondi e voi guardatelo lo conoscete è del tempio lo conoscete no? devono rispondere sì Giuda che ti feci fare quando parlai qui per la prima volta e tu di che ti stupisti ed io che ti dissi in risposta del tuo stupore parla e si schietto sentite mi disse chiama l'ufficiale di turno che io gli possa chiedere permesso di istruire e e io mi stupì ed io me ne stupì come di inutile formalità dato che egli si dice il messia e lui mi disse è necessario e quando sarà allora ricorda che io non ho mancato di rispetto al tempio e ai suoi ufficiali sì ha detto così per la verità lo devo dire giuda in principio parlava un poco incerto come seccato ma poi con uno di quei trapassi bruschi suoi propri si è fatto sicuro fin quasi arrogante mi fa stupore che tu lo difendi hai tradito la nostra fiducia in te rimprovera un sacerdote a giuda non ho tradito nessuno quanti fra voi sono del battista e sono traditori perciò io sono di cristo ecco ebbene costui non deve parlare qui venga come fedele è fin troppo per uno amico di pagani meretrici pubblicani rispondete a me ora dice gesù severo ma calmo chi sono gli anziani di turno doras e felice giudei gioacchino di caparnao e giuseppe tureo ho capito andiamo riportate ai tre accusatori poiché l'itureo non ha potuto accusare che il tempio non è tutto israele e israele non è tutto il mondo e che la bava dei rettili per quanto sia tanta e venenosissima non sommergerà la voce di Dio né il suo veleno paralizzerà il mio andare fra gli uomini finché non sarà l'ora e dopo dite loro che dopo gli uomini faranno giustizia dei carnefici e solleveranno la vittima facendo di essa il loro unico amore andate e noi andiamo e Gesù si ammantella nel suo pesante mantellone scuro ed esce in mezzo ai suoi in coda è Alessandro rimasto alla disputa fuori del recinto presso la torre Antonia dice io ti saluto maestro e ti chiedo perdono per essere stato causa di rampogne per te o non te ne dolere cercavano l'appiglio l'hanno trovato se non eri tu era un altro voi a Roma fate i giochi nel circo con fiere e serpenti non è vero? ebbene ti dico che nessuna belva è più feroce e suddora dell'uomo che vuole uccidere un altro uomo ed io ti dico che al servizio di Cesare ho percorso tutte le regioni di Roma ma non ho mai fra i mille e mille soggetti incontrati trovato uno più divino di te no che anche i nostri dei non sono come te divini sono vendicativi crudeli rissosi mugiardi tu sei buono tu sei veramente un uomo non uomo salute maestro addio Alessandro procedi nella luce e tutto a fine allora ho preferito non interrompere la lettura perché il paragrafo è finito adesso facciamo un 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 background unico perché il brano è molto edificante e contiene degli spunti non indifferenti perché questo milita Alessandro negli scritti di Matteo Altorta è stata proprio la primizia del mondo pagano proprio nell'emblema io partirei da qui la nostra riflessione perché lui è il protagonista di fatto di di questa sera perché vedete un pagano riso evidentemente educato da pagano e per di più un soldato un uomo di armi questo lo sa quanta gente ammazzato nei campi di battaglia sappiamo che i romani da che giocavano a flipper quando facevano la guerra era un esercito impressionante con una disciplina rigorosa e anche insomma non vorrei dire prudeltà però insomma non indifferente era meglio non trovarsi di traverso insomma con i soldati romani per ragioni ovviamente prudenziali eppure pur dentro questo contesto certamente umanamente vogliamo dire complicato complesso no è un uomo quindi conserva le facoltà spirituali la chiesa dice per quanto indebolite perché il peccato originale non ci ha lasciato uguali a come eravamo quindi c'è stato un peggioramento però non siamo diventati ebedi incapaci di intendere e di volere no nessuno è diventato tale quindi il soldato Alessandro adesso più chiaramente stiamo seguendo il percorso di Giuda chi legge gli scritti di Maria Valtorta che io ovviamente specialmente l'opera del Vangelo non è che raccomando se uno ci vuole fare un regalo si faccia questo regalo d'accordo si vede il primo incontro di Alessandro con il Signore quindi se non ricordo male ma non potete ricordare male si vede anche quando lui ascolta una predica quindi è una persona che in qualche modo rimane sensibile perché vuole quindi ai richiami della grazia questo è stato uno toccato procedi dice Gesù procedi nella luce procedi quindi vuol dire che ha già cominciato ad accogliere la luce un pagano questo il Signore lo fa con tutti quindi torniamo alla premessa che avevo fatto e che ribadisco per quanto sta in Dio lui grazie ispirazioni buone aiuti alle persone perché possano arrivare alla luce comprendere conoscere la verità gli da e a questo pagano concede il miracolo glielo concede il miracolo a lui certo altro aspetto da notare questo era stato esasperato dai cosiddetti come diciamo persone religiose del tempo perché perché c'erano le regole le leggi le regole il pagano non può entrare evidentemente è vero perché anche Gesù poi lo tratta in un certo modo nel luogo dedicato ai soli ebrei uomini a ridosso del santo la regola c'era ma questo stava andando lì per un fatto di vita o di morte perché c'era un bambino che stava morendo la cosa che dice Alessandro poi Gesù lo blocca ma lo blocca perché voleva certamente spostare il discorso su un altro punto di vista ma quello che lui dice è vero io sono un pagano sì ma io sono un essere umano voi dite che c'è l'unico Dio e a me chi mi ha creato che mi ha creato il diavolo mi ha creato pure lui no? quindi certamente che sono un pagano a parte il fatto che avevo dovuto anche aggiungere che colpa ne ho che sono nato a Roma e non sono nato qui in Giudea o in Galilea qualche colpa per questo ci abbiamo colpe noi siamo nati no e poi cerca di capire che si tratta di una situazione borderline straordinaria no? Gesù nel Vangelo vi ricordate l'episodio in cui dice quando gli dicono respighe strappate nel giorno di sabato cioè questi stavano morendosi di fame il giorno di sabato che è il giorno del Signore quindi il giorno di sabato anche nell'Antico Testamento il giorno del Signore non è giorno di digiuno cioè i digiuni dobbiamo farli e oggi tra l'altro è venerdì quindi spero che molti proprio che stanno ascoltando in diretta abbiano fatto il digiuno o lo stiano facendo ma la domenica anche i grandi digiunatori quaresimali cioè quelli che ci sono anime ancora che fanno questo che si fanno la quaresima full digiuno full fast possiamo dire in inglese la domenica no perché domenica quelli passavano per i campi hanno preso una spiga se la sono mangiata apriti cielo lavoro proibito nel giorno di sabato allora Gesù per farli ragionare perché Gesù cerca sempre di far ragionare e guardate che si può sragionare questo hanno fatto frequentissimo questo è il brutto insegnamento purtroppo latente dietro questo brano dietro la parvenza di motivazioni religiose peggio ancora quando più che parvenza chi sragiona è convinto di avere delle ottime ragioni religiose non dranno Gesù prende questo e dice ma scusate non l'avete letto nella saga scrittura che cosa è successo un bel giorno Davide arrivò in un posto dove c'erano i sacerdoti e i panni consacrati al Signore che non li può toccare nessuno se non i sacerdoti ma quelli stavano morendo di fame e quindi che succede? stavano morendo di fame non c'era altro vogliamo dire morite di fame perché questi sono panni di riservati ai sacerdoti l'applicazione cieca della legge di ogni legge quindi la legge io perdonatemi su questo insomma c'è un po' anche di cultura generale arcaica perché mi conosce sa che ho studiato la legge la legge per definizione è si dice generale è astratta perché deve evidentemente creare una regola che appunto astratta cioè che non è calata nelle infinite situazioni possibili che possano crearsi da generale perché deve dare un'indicazione che è precettiva quindi ordinariamente la legge bisogna osservarla e vale d'accordo ma se uno non capisce che ci sono delle circostanze eccezionali in cui la legge umana ovviamente la legge divina mai ma la legge umana si perché anche le leggi sacre come erano nell'antico testamento quella che i pani sono riservati al sacerdote sono norme cultuali certamente sono in qualche modo divinamente riconducibili ma non è che sono i precetti del decanogo ok quindi sono derogabili ovviamente non alla leggera ma sono derogabili e tutta l'altra polemica che Gesù ha fatto contro le pazzie dell'osservanza folle del sabato hai guarito di sabato ma scusate un attimo ma scusate un attimo è il sabato il giorno del signore il signore ha creato i suoi figli se un povero figlio è disgraziato sta male ma quale giorno migliore per guardare non solo non solo che non è proibito ma quale giorno migliore perché è il giorno il sabato nell'antico testamento in cui il signore si riposa e contempla la sua creazione e dice che bella cosa che ho fatto e il versetto della creazione è l'uomo no non osserva il sabato avete l'episodio del cieco nato in mangiare di San Giovanni questo guarisce sul cieco la prima cosa appena lo trovano comincia a fare quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato primo criterio di discernimento io figlioni miei cari vi posso dire vedendo queste cose mi cascano le braccia per terra e mi oppure piange il cuore perché vedo in continuazione in me e fuori di me come è facilissimo cadere in queste sabbie mobili non capire che la circostanza concreta la situazione concreta non ti permette di applicare in maniera cieca la legge generale è astratta c'è un bambino che sta morendo un pagano che ha avuto un incidente gli dispiace dice si non l'ho fatta apposta ma quel bambino morirà a causa mia e la mamma è disperata no no spostiamo l'attenzione su questi altri io ho chiamati i camafori perché come come li vuoi chiamare questi qua come li vuoi chiamare gente dura di cuore è completamente chiusa e ottusa questa gente questi fenomeni Doras e Felice se uno apre gli scritti di Maria Valtorto bisogna andare a vedere chi erano essere completamente inqualificabili c'è chi è mio e vedete che Gesù che era intelligente molto intelligente l'abbiamo letto queste sono le puntate precedenti aveva chiamato Giuda l'aveva mandato a chiedere il permesso e Giuda dice ma chiedi chi è il permesso tu quante cose Gesù ha fatto in questo modo qui non vi ricordate che Gesù ha bisogno di essere circonciso Gesù deve essere circonciso stiamo scherzando stiamo ma l'ha fatto lui non ci è dato nessuna dispensa e ha sempre quando guarivo un lebroso vai a presentarti al sacerdote quindi ineccepibile anche quanto all'osservanza della legge giudaica ricordate quell'esempio un po' singolare che riporta uno degli evangelisti no? che a un certo punto gli avevano detto doveva pagare la tassa per il tempio e Giù dice senti po' ma secondo te i figli devono pagare le tasse ai genitori cioè io che sto al figlio devo pagare la tasse a mio padre dice no però perché non chiacchiere a vanvera a vanvera vai a gettare la rete dalla la canna da pesca la rete adesso non mi ricordo lo sud del lago pescherai un bel pesciolino e aprigli la bocca a trovare una bella moneta è l'equivalente della tassa del tempio vai e portalo a loro per testimonianza è vero che quel pesce adesso si chiama pesce san pietro un pesce una delle poche cose detto fra voi gustose che si possono mangiare dalle parti del lago di Cagliere se ci doveste capitare è un piatto tipico irrinunciabile il pesce san pietro con tante patatine intorno buonissimo pur essendo un pesce d'acqua dolce però buonissimo quindi Gesù ineccepibile e chiama Giuda vedete ineccepibile è anche intelligente qui bisogna imparare anche da Gesù ad agire in un certo modo a muoverci in un certo modo perché questo vale per noi preti ma vale per tutti non bisogna lasciarsi muovere gratuitamente questi tipi di obiezioni chiaro i vomitatori di veleno il veleno te lo vomitano addosso lo stesso ma tu non gli devi dare un pretesto giusto per vomitarti contro questa roba Gesù non gli era dato quindi questi sono esempi vivi che ci insegnano la virtù soprattutto quella virtù che è tanto difficile e che è la prudenza rettamente intesa rettamente vissuta che ha tra le sue parti anche il prevedere dico se io adesso faccio questo o non faccio questo mi espongo a questo o a quest'altro quindi lo prevengo agendo secondo giustizia non facendomi tacciare gratuitamente di trasgressore delle sacre leggi anche di quelle che non vengono direttamente da Dio servito a qualcosa? no servito però a sbugiardare i suoi avversari e denigratori gratuiti ora domanda dopo questa intimazione Gesù se n'è andato quel giorno no? perché ha lasciato ma è tornato mai nel tempio a insegnare quindi ha obbedito a questa intimazione tassativa perentoria e categorica oppure no? prego anche durante poi gli interventi post diretta allora lì per lì è andato via perché ha lasciato perdere per non creare un vengono termini insomma non sconvenienti devono creare un pandemonio diciamo così ecco una situazione incresciosa ma è tornato poi nel tempo a insegnare? sì o no? la risposta è sì e quindi che dobbiamo dire ha trasverito l'ordine dei sacerdoti delle autorità preposte a quel luogo giusto? quindi perché dopo uno deve concludere bene dobbiamo dire che Gesù dice obbediente giusto? quindi se tutto questo fosse vero possiamo dire che Gesù non ha mai peccato è impeccabile perché la disobbedienza non è un atto di virtù avanti apriamo la discussione dopo perché è tornato a insegnare nel Tempio? perché nessuno come lui ne aveva diritto perché le procedure perché questo potesse essere fatto l'aveva osservato è in forza degli interessi superiore del padre suo punto bisogno di commentare questo questo mi sembra che sia fatto oggettivo no? anzitutto lui ha predicato spesso e volentieri fuori contesto dice la voce di Dio non può essere fermata e la baba dei rettili per quanto sia tanta e velenosissima non sommergerà la voce di Dio nel suo veleno paralizzerà il mio andare fra gli uomini finché non sarà loro la baba dei rettili chi sarebbero questi rettili? baba dei rettili insomma un'espressione com'è questa espressione? è un po' offensiva? io sto facendo un po' di provocazione adesso ovviamente no? baba dei rettili né il suo veleno paralizzerà il mio andare fra gli uomini e questa baba non sommergerà la voce di Dio quindi che si fa con un ordine ingiusto illegittimo che si fa? sono cose che dobbiamo evidentemente poi prendere elaborare no? e questo è molto importante vedete Gesù ha agito anche perché noi dobbiamo agire con il cervello perché aveva preso a testimone la prima volta che aveva andato al tempio Giuda perché Giuda era conosciuto da questi estimato quindi questo perché non dobbiamo mai trovarci senza argomenti dinanzi a chi ci accusa ingiustamente se c'è e quindi le cose vanno fatte per bene e come Gesù stesso ha insegnato nel Vangelo siate si semplici come colombe ma anche prudenti come i serpenti prudenti in certe circostanze vuol dire anche non dico astuti cioè intelligenze astuto non si può dire perché l'astuzia generalmente è la intelligenza utilizzata dai malvagi per ordire le loro trame no? potremmo chiamarla scaltrezza forse anche questa male non fa è importante vedere queste cose ed è desolante sentire queste cose da parte di questi te e il pagano profanatore va bene amici quindi penso che questi insegnamenti siano abbastanza importanti ci riflettiamo sopra questa certamente è una catechesi non è una meditazione però deve avere uno strascico a mio avviso dobbiamo pensarci ci dobbiamo applicare alla nostra vita quindi ripensare se ci sono state situazioni analoghe come ci siamo comportati come abbiamo reagito come abbiamo agito fare anche per esempio la calma di Gesù Gesù non scende a livello non si scende a livello adesso si arrabbia assolutamente tante volte dice severo ma calmo sempre quindi quando uno ha la forza degli argomenti quanto più l'argomento è forte tanto meno uno deve alterarsi perché c'è sempre il proverbio che diceva sempre il padre del mio caro amico di infanzia avvocato buonanima direbbe così l'umiltà e la sapienza parlano l'ignoranza e l'arroganza o la superbia variante urlano questo è molto importante lo stile mantenere il dominio di noi stessi anche quando siamo ingiustamente attaccati colpiti senza lasciarsi ma intimidire rimanendo padroni obiettare e argomentare dicendo tutto quello che dici sono tutte stupide e te lo dimostro te lo mostro e te lo dimostro poi continua pure a parlare e chiudiamo anche con una frase calta di Gesù nessuna belva è più feroce e subdola dell'uomo o uccide un altro uomo feroce e subdola a nostro signore lui lo dice chiaramente proprio con gli scritti di Maria Torta le hanno fatte di uno e hanno proprio avvenenato la vita in quei tre anni hanno provato avvenenare la vita con minacce trappole sotterfugi fino alla consumazione non sommergerete la voce di Dio finché non sarà loro e dopo e dopo che gli uomini faranno giustizia dei carnefici solleveranno la vittima facendo di essa il loro unico amore qui c'è un'allusione chiara a cosa alla distruzione di Gerusalemme da parte dei romani nel 70 dopo Cristo con Tito gli uomini faranno giustizia dei carnefici e solleveranno la vittima facendo di essi il loro unico amore dove si è impiantata la chiesa che l'ho fatto qualche giorno fa Santi Pietro e Paolo in un tempo c'era l'ottava dei Santi Pietro e Paolo quindi questi che voi adesso state maltrattando come cani saranno loro che faranno giustizia dei carnefici e solleveranno la vittima facendo di essere loro unico amore e così è stato bene amici Dio vi benedica la Santa Vergine vi protegga ci aggiorniamo la prossima puntata una santa notte a tutti laudentur Iesusa Maria grazie a tutti